Ciao ragazzi, sono Bindole e ovviamente sono qua con Leo Dico ovviamente perché questa compilation non poteva non comprarla a Leo Di che si tratta? Praticamente il NeoGeo X, che è quella console che è intanata lì Questo iPad Possiamo vedere l'Arcade Stick con il mio portafoglio sopra e la console portatile Remake del NeoGeo, per chi non lo sapesse Trovate l'unboxing sempre sul canale, mi sembra, all'epoca Che consiste in una portatile, una console di attaccare la tv E praticamente è uscita finalmente la prima collezione di giochi Sono 15 titoli Come vedete, è praticamente la confezione come una vecchia cartuccia dei giochi del NeoGeo Ma dentro c'è un SD che include questi 15 videogiochi Un consumo di plastica per un SD così Aspetta un secondo Facciamo vedere questo che era, questo è Ninja Master Che era in omaggio con le prime tirature della console Ok, questo è un SD e questa è la scatola, potete vedere Quindi dentro ci dovrebbe essere questa O che non ce ne siano 15 È impossibile che ce ne sia una E beh, buone grazie Adesso lo apriamo Lo lascio ad aprire a Bing Comunque lo trovate su GameStart.it Costa 79 euro E vengono venduti anche spusi questi giochi Ma questa qua è una compilation Che conviene comprare perché si risparmia È ad edizione limitata Edizione limitata perché penso che sia soltanto al day one Non pensi, è così Dovrebbe essere così Una cosa molto importante da dire Scusate la luce che è purtroppo una merda È che le tirature di questi prodotti sono veramente basse Quindi se uno li vuole Deve accaparrarsi di subito Perché comunque è roba da appassionati Non è certo una cosa che trovate in un supermercato No, sicuramente dato che da appassionati Non è che ne stanno a stampare miliardi di copie Penso che Neo Geo sia già esaurito Esatto, quindi ragazzi Chi lo vuole Corra Vai, apri Lo apriamo Guardiamo soltanto un attimo al volo i giochi Che per la maggior parte sono dei gran picchi e dura Arto 5 Non riesco purtroppo Questa è la mia telecamera che fa merda Dai, ve li dico tutti al volo L'Art of Fighting 3 Blazing Star Blues Journey Scusate la pronuncia Garou Mark of the Wolves The King of Fighters 96 Kizun Encounter The Last Blade Metal Slug 2 Samurai Shodown 3 Sevei Jorain Sengoku Shock Troopers Super Sidekicks 3 Top Hunter E World Heroes 2 Jet Super Sidekicks Che ci faccia la serata Il gioco di calcio più bello penso mai prodotto Adesso abbiamo l'apertura Io voglio salvare questo bollino a Leo Perché lui è un po' un... Si ma taglia T'ho già detto taglia Ma col cutter viene bene Non è che te lo taglio te lo trancio Ripiegalo dentro Ripiegalo dentro Ripiegalo dentro Allora taccalo lì Che segue quello che gli viene detto E con gran curiosità vediamo che cosa Siamo veramente curiosi Anche perché è un'edizione veramente prestigiosa Cioè sembra quasi bella Cioè è bella Guardate con che Tana Gran polis tirolo È tutto in bottitura Il manuale Allora abbiamo il manuale Vorrei far notare che il manuale di questo è più bello di ogni manuale esistente Penso questo gioco è un capolavoro È bello perché comunque c'è una panoramica piccolissima Non solo ma ci sono le cover originali del titolo Le schede prodotto No è molto completo È in inglese Si ti dice il numero dei giocatori Quanto occupa sulla scheda Quando è stata rilasciata La storia E i comandi No è veramente È veramente completo Bello 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 Anche dei figurini ragazzi Gli adesivi Ah per tutti i giochi Qua e a te se ne stacchi uno Allora probabilmente Secondo me sono anche queste cose qua Cos'è che dicevi? Anche gli adesivi del NeoGeo È stupenda questa cosa ragazzi Poi abbiamo Abbiamo praticamente Upgrade manual Esatto C'è praticamente questa cosa qui Che mi sono dimenticato di dirvi Praticamente c'è un cavetto USB Mini USB C'è praticamente questa cosa Che fa fare un upgrade Alla console Che ne migliora Delle funzionalità No non lo sapevo Io parlo Vabbè questa è Lease refer to negeris firmware update manual Questo è il manuale per l'aggiornamento Esatto Che è No Secondo me ti dice semplicemente Prima di giocare Fai l'upgrade Fai l'upgrade Prima di giocare Questa è la console Ovviamente E questa è la schedina E questa è la SD SD semplice Megapack Volume 1 Questa cosa qua Del volume 1 Ci farà capire Non so se si vede Che ci sono le scritte Esatto Dice di fare l'upgrade Prima di giocare Facciamo vedere un attimo una cosa molto carina Il retro Il retro Il retro Oh palala Va bene Salutiamo Perché a questo punto Guardiamo qua se c'è qualcosa Non c'è nient'altro È impollata Se la stacchi ti picchio Non c'è un cinese No Non la togliere No C'è la scritta Neo Geo X Easy easy Va bene Questa confezione Che è costata tanta plastica Per l'anima del cazzo No Non va Devi farlo upgrade Quindi non lo fate Ah giusto E niente Quindi Purtroppo non possiamo farvelo vedere Perché dobbiamo aggiornare la console Quindi vi salutiamo E ve lo facciamo vedere un altro momento Ciao Ciao